Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Tanti temi all'ordine del giorno. Intanto il primo scandalo, i fondi per le bonifiche che vengono sottratti ai lavoratori ex ILVA in AS. Sarebbe stata un'opportunità, certamente, e per procedere con le bonifiche e per dare un ristoro a questi lavoratori, d'improvviso questi fondi per le bonifiche vengono appunto sottratti ad essi. Sì, non vengono sottratti ai lavoratori in AS e basta, vengono sottratti alla comunità. Nei fatti con un colpo di spugna, questi nel decreto 1000 proro, che hanno inserito questa norma sul cambio di destinazione d'uso di quei fondi, che servivano inizialmente alla presentazione di progetti per le bonifiche sul territorio tarantino, sulle aree inquinate del territorio tarantino. Io invece ho dato un'occhiata un po' alla spiegazione che loro danno. Loro dicono, siccome tu hai presentato progetti per 100 milioni scarsi, rimangono 500 e passa milioni, quei soldi che rimangono, visto che ancora non hai presentato progetti per ulteriori bonifiche, io li investo per la decarbonizzazione della fabbrica. Te la dico così a parole mie, si stanno spartendo i soldi, perché secondo me la parte di quei soldi andrà non solo a Cedria d'Italia, ma anche a gestione di Invitalia per quella paventata ipotesi di creare gli impianti di pre-ridotto, ma anche qua il problema qual è? Tu sottrai i fondi ad una città che sta soffrendo terribilmente la questione dell'inquinamento e quindi butti giù la maschera e tiri fuori la vera questione che a te interessa, la questione dei soldi. Questo è la dottazione dell'ennesima volta che a livello governativo non c'è un interesse di andare a risarcire Taranto rendendo una città meno inquinata rispetto a quella che era negli anni precedenti. È chiaro che indebolisce anche la posizione dei lavoratori il Vinaes, perché se questi soldi ci stanno è un conto, se non ci stanno come dire, come tu sai alla fine diventa complicato anche pensare alla lontana per i lavoratori il Vinaes. Sempre più penalizzata questa categoria, cioè abbandonati a se stessi, con un accanimento incredibile. Sì, ma la freddezza di questi personaggi tra l'altro, perché non è stata fatta assolutamente menzione al ministero di sta cosa qua, però gli artefici poi alla fine sono loro, sono i manager di Aceria d'Italia, a domenica Arcuri di Invitalia e il ministro dello sviluppo economico, perché altrimenti non sarebbe stata presentata. Noi ci operiamo venerdì sotto la prefettura, te la dico in tutta onestà, questa manifestazione dovrebbe essere fatta non solo da lavoratori ma anche dai cittadini, perché è l'ennesimo schiaffo alla comunità locale. Quindi noi siamo lì venerdì, sarà la prima di una serie di iniziative, fino a quando non riusciremo a far cambiare idea a questi personaggi che ci stanno trattando come l'ultima ruota del carro. Io non credo che Taranto e i lavoratori di Taranto meritano questo trattamento. Tra l'altro diamo una parte di quei fondi a gestione di una società, ArcelorMittal, in questo momento Aceria d'Italia, che non paga i fornitori, che mette migliaia di persone in cassa integrazione. Guardate, l'altro giorno è stato assurdo, non ricordo su quale giornale, forse un solo 24 ore, c'era da un lato il numero dei cassa integrati annunciato di ArcelorMittal da Aceria d'Italia, 3.500, dall'altro c'era l'articolo sugli utili fatti dalla Mercegaglia nel comparto di Siderurgia, quindi è tutto il contrario di tutto. Quindi diamo soldi ad una società, Aceria d'Italia, che non paga i fornitori, paga con lentezza, mi avrebbe da dire, come una famosa canzone, come un titolo di un film, i fornitori, le ditte d'appalto, e gli facciamo gestire i soldi delle bonifiche, perché l'obiettivo poi alla fine è quello, andare a gestire i soldi. Ma guarda, in questa storia c'è di tutto, balza agli onori delle cronache anche quello che sta avvenendo con la Sanac, di cui si parla pochissimo. C'è il gruppo Sanac, a un certo punto, che produce Refrattari ed era il primo fornitore del gruppo Ilva, quindi un'azienda collegata ad Ilva, entra in gara nel 2017 insieme al gruppo Ilva. Arcelor Mittal allora acquisisce il gruppo Ilva, dovrebbe acquisire anche il gruppo Sanac per una trentina di milioni, se non sbaglio, fanno degli accordi e praticamente hanno allungato la tempistica, perché entro 12 mesi era previsto l'acquisizione della società, quindi loro fanno degli accordi per derogare a questo, e per tre anni praticamente loro continuano a rinunciare all'acquisto. Non pagano il gruppo Sanac, il gruppo Sanac porta a Cerie d'Italia, prima Arcelor Mittal, poi a Cerie d'Italia in tribunale, per chiedere i soldi dovuti, tra l'altro il gruppo Sanac è un gruppo sano, la gara viene annullata, quindi Arcelor Mittal rinuncia all'acquisto della Sanac, si va a nuova gara, e sentite, c'è una cosa assorda, mai sentite in un paese che dovrebbe essere democratico, in cui dovrebbe essere tutto trasparente, la gara viene fissata a un prezzo, se non sbaglio, di 5-6 milioni, roba quindi nettamente inferiore il prezzo d'acquisto rispetto a quanto concordato nel 2017 con Arcelor Mittal, e c'è un comunicato dei confederali che dice che addirittura al Ministero li hanno tranquillizzati sul fatto che a Cerie d'Italia parteciperà alla gara e quindi alla possibile acquisizione di Sanac, cioè il paradosso è, era già tua, dovevi esercitare l'opzione di acquisto, non lo fai perché 30 milioni sono troppi, non paghi il rischio di far fallire la società, poi rifanno una gara e magicamente, per l'anticipo io, vincerà a Cerie d'Italia a prezzo stracciato, e questa è la nazione in cui viviamo e questi sono i soggetti, i ministri, che dovrebbero tutelare gli interessi della comunità intera. In questo quadro una nota positiva, questa stabilizzazione, tra virgolette, relativa alla integrazione per i lavoratori ex silva in AS, almeno questa nota lieta di fine anno, di fine 2021. Sì, c'è stata l'integrazione che è stata proposta con un emendamento alla legge di bilancio sul nostro appressione dal ex sottosegretario, nonché vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, fortunatamente è passata l'integrazione salariale, e anche qua faccio un po' di chiarezza perché ci sono notizie distorte, c'è qualche sindacalista che ha dichiarato che l'integrazione salariale era un atto dovuto perché è presente all'interno dell'accordo del 2018, ma stronzata, probabilmente il suo sindacalista è abituato a firmare gli accordi, a non leggere che cosa c'è scritto dentro, perché l'integrazione non è prevista all'interno dell'accordo del 2018, quindi paradossalmente è una gentile concessione dello Stato, che noi anno per anno, per noi è un atto dovuto perché è chiaro che è parte integrante di un ragionamento che è stato fatto nell'attesa poi che i lavoratori venissero richiamati, attesa che probabilmente sarà lunghissima, in realtà però non è prevista all'interno di quell'accordo e c'è da riconquistare l'integrazione ogni anno. Noi quest'anno tra l'altro avevamo anticipato che con la riforma dei mortizzatori sociali c'era la probabilità che l'integrazione, come dire, divenisse più leggera e così è stata, perché nell'ultima legge di bilancio, con la nuova riforma dei mortizzatori sociali, in cui sono cambiate un po' di cose, è stato abbattuto il tetto dei 90 giorni per mettere in cassa integrazione i lavoratori, questo interessa soprattutto i lavoratori a Cilie d'Italia che rientrano dopo aver fatto la causa per l'ex articolo 28 promosso da OSB. Prima dopo 90 giorni potevano essere collocati in cassa, adesso dopo 30 sostanzialmente, perché hanno cambiato nella legge di bilancio sta norma. In più hanno eliminato gli scaglioni, c'erano due scaglioni, c'è lo scaglione superiore a 2.160 euro al mese, se non sbaglio. 2.159,48 per la 2.160 diciamo. Che dava diritto ad una prestazione di cassa integrazione superiore a 1.000 euro nette mensili da parte dell'Inps. E' la fascia inferiore a quella cifra che aveva mediamente intorno alle 850 euro. Adesso è stata abolita, quindi prenderemo tutti la stessa cifra mediamente di cassa integrazione. E' chiaro che tutto ciò farà diminuire nella fascia bassa, quindi per coloro che come me prendevano circa 850 euro al mese, avranno una cassa integrazione da 1.000 euro, ma avranno l'abbattimento dell'integrazione salariale che scenderà di un centinaio di euro almeno. Questo per dire, ne approfitto della tua intervista, per rilanciare quella cosa che abbiamo già proposto quando facciamo lo sciopero con i lavoratori vinaes sotto la Prefettura. Siccome anticipiamo che c'era il rischio con la riforma dei moltizzatori sociali che potesse pesare di meno l'integrazione per i lavoratori vinaes o almeno per una parte di quei lavoratori, noi chiaramente chiederemo immediatamente ai rappresentanti politici, quindi quelli che si stanno interessando alla questione ILVA, faremo una proposta di cambiare l'integrazione salariale, magari a partire dall'anno prossimo, e secondo me a un certo punto bisognerebbe ragionare con cifre che non devono essere fisse, ma devono essere riviste verso l'alto, perché altrimenti qui passano gli anni, ti viene garantita sempre la stessa cifra, però adesso con tutti gli aumenti che abbiamo fra bollette di luce e gas, sono previsti aumenti spaventosi, è chiaro che a un certo punto tu rimani sempre sullo stesso margine economico, quindi l'idea è quella di chiedere, come dire, una modifica da presentare per la prossima integrazione salariale. Parlando così genericamente del discorso della riforma degli ammortizzatori sociali, sempre nel sociale c'è un altro aspetto importante, quello dell'assegno unico. Sì, dal 1 marzo 2022 si cambia, quindi si va all'assegno unico sostanzialmente, non ci saranno più detrazioni, ci sarà appunto l'assegno unico, nello specifico i lavoratori dovranno fare la domanda per l'assegno unico presentando anche l'ISEE, e quindi verrà tutto accorpato. La dico così, il vantaggio della riforma degli ammortizzatori sociali, il fatto positivo è che per tutti i lavoratori italiani non c'è più il tetto massimo, minimo, quindi prenderanno in cassa integrazione tutti gli stessi soldi. Questo ha un vantaggio soprattutto per i lavoratori di Aceri d'Italia che stavano alla fascia bassa, che vedranno adesso a aumentare la cassa integrazione di circa 150 euro. Per i lavoratori di Vina S l'assegno unico però conviene fare richiesta direttamente all'Inps per avere l'erogazione intera mensile, perché il rischio poi con il Vina S c'è sempre il gioco della capienza e quindi tu non riusciresti a prendere durante il mese tutto quello che ti dovrebbe toccare. Quindi questo è, ai lavoratori di Vina S tra l'altro, così come a quelli di Arcelor Mittal, io anticipo che faremo delle assemblee su questo, in cui spiegheremo come funzionerà tutto l'Ambaradam e chiaramente tentando, come diciamo, quando ci sono i cambiamenti c'è sempre un po' di confusione, si stenta a capire, però tentando di arrivare già a marzo in una condizione in cui nessuno, come dire, debba rannunciare gli assegni e quant'altro. Concludendo la nostra intervista, ricordiamo venerdì 7 gennaio, sotto la prefettura, la manifestazione di protesta di USB. Assolutamente sì, manifestazione di protesta di USB, che io dico mira a tutelare, non solo il Vina S, ma tutto il territorio, perché quei soldi sono una piccola parte dell'esercimento di cui questo territorio ha diritto, e non ci faremo scippare dalla politica, perché ha deciso, come dire, di distribuire a destra a manca questi soldi, perché l'unico intento, e lo dico in tutta onestà, io non credo nei progetti che stanno presentando, ma l'unico intento a me, mi sembra che sia quello di gestire un bel pacco di milioni, loro hanno parlato chiaro al Ministero, hanno detto che i soldi per l'eventuale transizione green, i 4 miliardi e 7 famosi sparati dal Presidente Bernabè, dovevano pervenire dai fondi europei, quindi non capisco l'utilità di questi 575 milioni, al contrario dico, questi soldi vanno lasciati alle bonifiche, perché non solo dobbiamo continuare, come dire, a ripulire il territorio, ma dobbiamo dare anche garanzie ai lavoratori vinaisti, che sono strettamente collegati ai soldi delle bonifiche, e quindi anche su questo, come dire, noi impediremo che tutto ciò possa avvenire, ci metteremo tutto l'impegno del mondo, e quindi bisogna evitare questo schiaffo ai lavoratori e alla città.